Tante volte, soprattutto in tempo di pandemia, si è detto e sentito che mancano i medici. Quello che sicuramente non manca sono gli aspiranti studenti di medicina. Almeno questo è il quadro che emerge ad osservare i numeri delle iscrizioni ai test di ammissione della Statale e della Bicocca di Milano. Circa 7.000 gli aspiranti tra medici e dentisti per appena 700 posti. Nell'Ateneo di Via Festa del Perdono gli aspiranti medici sono l'8% in più rispetto allo scorso anno. Nello specifico ci sono 3.300 candidati per 470 posti a medicina e 263 possibili futuri dentisti per 60 posti a odontoiatria. Questo significa che sarà ammesso un aspirante medico su 7 e un futuro dentista ogni 4. Alla Bicocca le probabilità di successo sono addirittura inferiori. Per i 150 posti disponibili infatti concorrono oltre 3.400 candidati. Solo 1 su 23 quindi riuscirà a centrare l'obiettivo. 160 invece gli aspiranti dentisti che si contenderanno ai 31 posti di odontoiatria. 1 su 5 riuscirà ad entrare.